E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono là in Fishtown che do, ci siamo ritornati in un nuovo fantastico video L'altra volta, lo so, è da tanti giorni che non registro e che non sapevo che cosa fare per il video, quindi stavo giocando a Flapteo, via! Via, via! Ecco Game over, mi sono distratto da alzare il volume Un'un'un'un'un'un'un'u Un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un Sono in camera Sono qui Ciao mamma Ciao ma il papi non è arrivato? Comunque torniamo al gioco Vabbè andiamo con senso Hey kids, come and sense the comic Come on in, you'll be getting so much more Hey kids, come and sense the comic Come on in, you'll be getting so much more Hey kids, come and sense the comic Come on in, you'll be getting so much more Hey kids, come and sense the comic Come on in, you'll be getting so much more Hey kids, come and sense the comic The girl will be getting so much more Come on, come and sense the comic Oh, oh, oh you'll be getting so much more Hey, love me, love you You'll be getting so much more Hey kids, come and sense the cinematic Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non si può sentire nel gioco. Ma che diavolo? Continua a morire. Chissà se metteranno anche Undyne l'Immortale. Quella come vostro è molto più bella. Quella come vostro è molto più bella. sapete che cosa mi ricorda questa la canzone della noi dog no dei great the great dog una storia la stessa canzone Perché non ho mai, non ho quasi mai abbastanza soldi per, per comprarmi, mi robi. Nope. Mamma, quando è che è pronta la cena? Sì. Ok. Aspettate un attimo. Ok. 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 äänuleverini. Questo ha detto è quindi un Rosario. Giovanni. qui lo combatte devo trovare anche il punto vi faccio vedere quanto è forte ve lo giuro è fortissimo guardate appena finisce il turno vi farò vedere succederà il casino ciao mamma guardate quanto è forte visto? visto quanto è forte? è fortissimo c'è anche un attacco c'è anche un ecco quell'attacco guarda aspetta te lo faccio vedere ma anche questo è un odioso ragazzi sapete una cosa facciamo un po' di ipnosi ipnotizziamolo ipnotizziamolo il suo prossimo attacco sarà più debole ed è diventato più stanco ottimo no ma aiuto quanti attacchi che fa è un inferno proprio scatenerà il caos ok questo è un pazzo ok questo è un pazzo proviamo questo lascia la paura si mangia una dark candy ho schivato per un parco muore 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 meglio se ancora si fa ecco qua un po' di hp muore 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 è così stupido che lo fa anche lui muore 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 I CAN DO EVERYTHING! UNDERTALE INX SENENCE! Ah, non la conosco questa! Vi ricordate un attimo il video in cui vi ho fatto vedere la battaglia con tutti i... Senso, questa è la stessa cosa però con tutti in versione... In versione SENENCE! Ma quanto sono stu... ma quanto sono scemi! Ma sono stu... ma sono brutti! Questo è il genocense! Laいたatatatatatatatatà! e 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 no 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 non leggete gli occhi guardate gli occhi quello è quello scienziato ma quanti sono brutti i robot il quale è il nightmare e l'horror vediamo se no decisamente non sono il rassa il rassa a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che succede? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Colpito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quasi. Grazie a tutti. Mamma mia. 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 Vado un attimo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.